Un bianco, un rosato e due rossi, ma uno in particolare che ha una produzione tutta particolare dell'azienda. È un prodotto ottenuto da uve di tintore e piedi rosso. Queste uve vengono vinificate e fanno il primo passaggio in legno divise, nello stesso legno però con due tostature diverse. Quindi è un rovere ma con due tostature, una un po' più aggressiva per stemperare un po' i tennini del tintore e una più dolce per arricchire e ammorbidire ancora di più il piedi rosso. Poi l'anno successivo viene assemblato in acciaio, quindi farà altri 12 mesi in acciaio e poi successivamente altri 12 mesi in bottiglia per poi essere pronto dopo tre anni dalla produzione. Dove lo consiglierebbe? Su quale piatto? Sicuramente è un vino abbastanza strutturato, quindi su piatti belli succulenti, tipo carni, carni rosse.